Il fondamentale è che se ne scondi ci sia vegetazione, ci siano alberi, arbusti, qualche albero sta tentando di crescere anche qua, diciamo nell'albero del fiume, però quando il fiume va in piena questo va sott'acqua, però ugualmente anche se è tutto sasso, c'è pochissima terra, qualche albero riesce a crescere proprio occhi e poi riescono a crescere. Va bene, dai, allora, liberiamo questi.